Salve a tutti amici di YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi torno con un video in cui vi voglio parlare di hype. Già ho parlato di hype in alcuni video precedenti, per chi non lo sapesse, è la carta di debito con funzionalità di conto del gruppo Bancasella. Ma per capire per quale motivo parlo di hype, c'è da capire per quale motivo che scaturisce tutto quanto da un episodio che è avvenuto ieri, venerdì 17 aprile 2020, come ogni venerdì io esco di casa per andare a fare i servizi settimanali, quindi supermercato, farmacia e altri piccoli acquisti come l'edicola, la tabaccheria. Ora, mi sono fermato allo sportello Bancomat di una banca, di cui non faccio il nome, che si trova qui a Mercogliano per prelevare dei contanti con i quali fare gli acquisti per contanti, quei pochi, che o non voglio o non posso fare con la carta, tipo tabaccaio, tipo edicola, perché per il resto degli acquisti, la maggior parte, preferisco pagare con la carta. C'era una signora che doveva prelevare dei soldi per fare la spesa, ma non ci è riuscita. Questo per quale motivo? Non aveva con sé un Bancomat, ma non perché non lo avesse fisicamente in quel momento, ma perché non lo possedeva proprio. Le banche, soprattutto nei piccoli paesi, in questo periodo limitano la loro operatività. Nella fattispecie questa filiale di banca ha limitato l'operatività lunedì, mercoledì e venerdì con presenza di personale, previo appuntamento e con personale ridotto, questo per evitare assembramenti e comunque per limitare l'esposizione del proprio personale. C'era una sola persona che lavorava in filiale. Morale della favola, la signora è dovuta tornare a casa senza poter fare la spesa per il fine settimana. Questo mi ha fatto riflettere su come, ad esempio, ci sia una fetta di attività commerciali che non accetti i pagamenti elettronici. Vi dicevo, tabaccheria, ma può essere anche ridicola. Dall'altra parte mi ha fatto pensare che c'è una fetta della popolazione che non è alfabetizzata al pagamento elettronico o all'utilizzo dei strumenti elettronici per i pagamenti, come le persone anziane. Basti pensare che in Italia per il pagamento delle pensioni di aprile, vista l'emergenza, lo Stato ha dovuto rimodulare quello che è il pagamento per cassa, per contanti, nelle poste negli ultimi giorni di marzo in base al proprio cognome. Quindi, se avevate la lettera C, poterete andare a incassare la posta negli ultimi giorni, se ricordo bene, il 27 o il 28 di marzo, quando solitamente è il primo giorno lavorativo, l'accredito della pensione per tutti quanti. Primo giorno lavorativo bancabile per tutti quanti. Poi, questa condizione ha fatto riflettere anche che sulla mia esperienza di vita in Germania non esiste questo, io non ho mai visto in Germania persone andare in banca per andare a prelevare soldi in cassa, lo sportello. Tutti quanti hanno un bancomat per prelevare soldi, ma addirittura anche per versarli, come succede anche in alcuni istituti bancari qua in Italia, e, ad esempio, non si va a prelevare la pensione in posta in Germania, le poste fanno le poste, le banche fanno le banche, tutti quanti hanno un conto corrente bancario, qualsiasi tipo di erogazione, ad esempio, di sussidio avviene tramite il pagamento sul conto corrente bancario, faccio questo esempio. Quando c'è stato da richiedere il contributo sul sito dell'Inps, i famosi 600 euro, una delle due opzioni era se andarlo a prelevare in posta oppure avere l'accredito sul conto corrente bancario, quindi siamo messi ancora a questi livelli. In Germania chiunque ha un conto corrente bancario, chiunque ha una tessera per poter fare prelievi, pagamenti e versamenti, e addirittura tutte quante le bollette, tutte quante le utenze che può andare dall'acqua al gas, la luce, internet e quant'altro, avviene su conto corrente bancario, non arriva la bolletta da pagare in posta. Perché? Perché le poste fanno le poste, ovvero pacchi, francobolli, raccomandate, hanno un dipartimento che è quello bancario e hanno un dipartimento che riguarda poi i prodotti assicurativi, un dipartimento che riguarda i servizi altri, come può essere anche in Germania c'è la compagnia telefonica delle poste, ma sto divagando. Questo perché mi ha spinto a voler realizzare un video? Perché è responsabilità nostra, io sono un over 40, anche se alcuni mi dicono non ci sembra, è responsabilità di figli e nipoti spingere i nostri nonni, i nostri genitori a sottoscrivere delle opportunità, delle soluzioni bancarie che prevedano l'online. Magari figli, nipoti, mettiamoci a disposizione o per insegnare o per co-gestire, ovviamente sempre se dobbiamo co-gestire serve che il servizio sottoscritto sia co-intestato, perché dal punto di vista legale è importante questo, ma cerchiamo di insegnare ai nostri genitori, ai nostri nonni che cos'è e come utilizzare gli strumenti di pagamento elettronici e sottoscrivere una soluzione del genere. Qua ci viene incontro AIP, per quale motivo? Perché è una delle possibilità di accesso molto semplici e molto economiche, un'opportunità molto vasta di servizi bancari. Basta scaricare l'app, basta identificarsi, basta sottoscrivere il servizio e si può scegliere uno dei tre servizi di AIP, da quello base a quello più evoluto, e proviamo a trasferire questo modo di poter usufruire dei servizi di pagamento online. scolleghiamoci da devo andare in banca, anche perché abbiamo visto che in un momento del genere il digitale, i pagamenti elettronici, tutto quello che può essere fatto da remoto è una grande opportunità. Quindi cerchiamo di andare incontro a questo tipo di soluzione che non è facile da trasmettere alle persone anziane, ma è fondamentale, soprattutto nel gestire una situazione del genere, perché per una persona anziana già il problema è elevato, l'esposizione è elevata a una condizione di emergenza del genere. Se riduciamo l'esposizione, quindi dover andare in banca, dover toccare, fare, dire, è una protezione aggiuntiva. Quindi se vi va potete provare il servizio di AIP sottoscrivendolo nella sua versione base, che è gratuita, d'accordo? E se reputato interessante per i vostri cari, potete poi fare le evoluzioni, gli upgrade della soluzione che avete sottoscritto, quindi dal plus a quella più evoluta, d'accordo? Potete sottoscrivere i servizi di AIP con il link in descrizione, che a seconda del tipo di servizio sottoscritto vi dà un bonus. Questo bonus viene accreditato sul vostro contocarta AIP successivo alla prima ricarica che fate sul conto, che può essere anche una ricarica di un solo euro. Però in base, come ho detto, link in descrizione, in base a quello che il servizio è sottoscritto, avete un bonus che poi potete spendere come volete, potete prelevare, potete fare acquisti online, quindi sono soldi, d'accordo? È un'opportunità per voi che potete sottoscrivere un servizio che vi dà massima flessibilità. Mi viene in mente anche il servizio di cashback, che può sembrare irrilevante, però ci sono tante affiliazioni cashback che vi riportano indietro soldi, il 2% da una parte, il 5% dall'altra parte. Mi viene da pensare semplicemente a Dazon e a tutti gli appassionati di sport, di calcio, ma non solo, che possono sottoscrivere Dazon, dove Dazon ha tolto il primo mese gratuito, ma sottoscrivendolo tramite il cashback di AIP si sottoscrive Dazon e il primo mese ritorna indietro scontato, quindi la sottoscrizione è a zero. Poi potete sospendere, annullare Dazon in qualsiasi momento. È giusto per dire un tipo di affiliazione, ma ci sono tanti store di shopping online, come può essere MediaWorld, come possono essere prenotazioni di autonoleggio. Vi sto facendo alcuni esempi di situazioni che possono servire in questo momento, ma in un futuro ci sono anche le prenotazioni con booking in futuro, anche quella che è la possibilità di sottoscrivere un'assicurazione. Insomma, i servizi in cashback sono veramente tanti. Quindi, se volete, utilizzate il link in descrizione per poter sottoscrivere uno dei servizi di AIP. Io vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, condividere il video se l'avete reputato interessante e soprattutto altre due cose che dico spesso nei miei video, fino a stancarmi. La prima è io resto a casa, quindi se non dovete uscire per situazioni di necessità, se non dovete uscire per motivi di salute, se non dovete uscire per andare al lavoro perché non vi è possibile lavorare in modalità smart working, rimanete a casa. E seconda cosa, se avete l'opportunità e se volete, prendete e effettuate una donazione alla protezione civile. Non bastano mai i fondi, sono stati superati 130 milioni di euro di donazioni che servono per l'acquisto di presidi medici sanitari, tanti respiratori che sono serviti per le terapie intensive sono stati acquistati, sono ridotti i casi di persone in terapie intensive, ma questo non significa che debbano essere ridotti i fondi per acquistare macchinari del genere, oppure che non si debba considerare l'acquisto di macchinari del genere, ma quei fondi servono anche per acquistare mascherine, per acquistare guanti, per acquistare tute, per acquistare tutto quello che serve per essere in sicurezza, stare in sicurezza, sia a noi, perché poi parte di questi presidi ci ritornano a noi, o le donazioni, le distribuzioni sul territorio, le distribuzioni da parte delle ASL e altro, ma soprattutto fornire i nostri angeli, chi ci cura, chi ha a che fare con le persone malate, ad avere tutte le protezioni che sono necessarie in questo momento. Quindi io vi ringrazio, vi invito a donare, se volete e se potete, bastano anche 5-10 euro, se ne avete la possibilità, non serve che doniate sempre, basta una volta, due volte, siamo 60 milioni di italiani in questa bellissima nazione, basterebbe una donazione di 5 euro, 10 euro, una volta ogni 15 giorni, una volta al mese, poi c'è chi può donare 5 euro, poi c'è chi può donare 10, chi può donare di più, ma donate, donate, dimostriamo il nostro cuore quanto è grande, soprattutto quanto abbiamo la volontà di superare questo periodo difficile e quanto abbiamo la volontà di riabbracciarci. Il nostro obiettivo è quello di ritornare tutti insieme, ad abbracciarci, stare insieme, ad amarci. Quindi io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, buon fine settimana e ci vediamo al prossimo video. Ciao!